Giuseppe Bruzzaniti, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto davvero qui nel nostro podcast del posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione senza la pretesa di entrare proprio, ma stando appena appena sulla soglia di questo saggio. Perché il titolo è invitante, ma è un titolo che incute timore e forse anche tremore, come diceva quel tal filosofo, il titolo è Di cose visibili e invisibili. Dall'atomo al quark, ai quark, viaggiando nelle immagini della materia. E questo è il libro pubblicato dalla casa elettrice Codice. Ricordo che Giuseppe Bruzzaniti, fisico specializzato in storia e filosofia della scienza, la Domus Carileiana di Pisa, ha svolto la sua attività di ricerca presso il gruppo di storia della fisica dell'Università di Genova, diretto da Enrico Bellone. Ora, è sempre bello ricordare Enrico Bellone, la sua attività di divulgazione della scienza, scienziato piemontese, come lo ricorda Enrico Bellone, Giuseppe Bruzzaniti? È stato un grande maestro, per me, io sono stato, diciamo, lavorato con lui per più di vent'anni, per un certo periodo, una frequentazione, direi, quotidiana. E poi lui, poi le cose della vita dividono, perché poi lui è andato prima a Padova, poi a Milano, io ero qui a Genova, insomma, quindi la distanza c'è un po' divide, ecco. Però il lavoro che è stato fatto con lui è stato enorme, per me è stato un grande maestro, insieme anche a Giulio Giorello, ecco, di cui ricordo sempre, diciamo, le scelte con lui, la sua amicizia così generosa, e quindi ho avuto questa fortuna, diciamo, ho avuto la fortuna di avere grandi maestri, ecco. Il libro che stiamo per raccontare, dall'atoma i quark, è stato scritto da un fisico, come però ho detto poco fa, specializzato in storia e filosofia della scienza, alla Domus Galileana di Pisa. Ci vuole raccontare questa importante presenza nel mondo della ricerca e della cultura, come la Domus Galileana? Sì, la Domus Galileana per un certo periodo purtroppo adesso non ha accessato quell'attività e soprattutto il suo ruolo, ma negli anni 80-90 del secolo scorso aveva una funzione enormemente importante, seguiva in un certo senso un sogno, un progetto, che era quello di riunificare in un unico sapere quello che i più ritenevano essere qualcosa di diviso, non il sapere scientifico e il sapere umanico. Ecco, la Domus Galileana ha svolto questo ruolo, ha svolto il ruolo di presentare, diciamo, un'idea di conoscenza che nasce dall'intreccio dei saperi, dei saperi scientifici, dei saperi umanistici. E anche lì ho avuto la fortuna di essere, c'era stato un concorso, non stato messo a questo corso di specializzazione, che doveva passare come il primo dottorato in storia e filografia della scienza, era l'epoca in cui nasceva in Italia il dottorato di ricerca. Ed era praticamente, è così che è stato fatto, io mi ricordo, è stato fatto addirittura anche discorso da tesi, chiamiamola, che si pensava forse di dottorato, ma poi in realtà è diventata solo una specializzazione, perché in quegli anni, come probabilmente ricorderai, ogni 6 settimedì cadeva il governo e quindi, diciamo, la legge che doveva far passare la Domus Galileana, che era equiparata all'epoca, la normale di fila, a dare valore istituzionale, quindi il dottorato di ricerca, cade quel governo proprio poche settimane prima che la cosa dovesse essere discusse e quindi tutto si pensa. Però per un certo periodo la Domus ha voluto questa funzione enormemente importante. Le dico soltanto, tanto per avere un'idea, che i docenti con cui ho fatto questo corso di specializzazione erano nomi del tipo Ludovico Genu, un altro, Eugenio Garegna, e anche il... come è andato a mi chiuso il nome? Vabbè, insomma, personaggi di questo calibro, ecco. E adesso cerchiamo di stare sulla soglia, nemmeno entrare in queste cose visibili e invisibili che non hanno a che fare con quella... anche se potrebbe entrare, no? Giuseppe Bruzzaniti in quella definizione del credo religioso, no? Quando si dice, rivolgendosi a Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, ma qui è la visibilità e l'invisibilità della scienza, ecco. Ed entrare in questo tema è affascinante anzitutto, complesso, però ogni cosa, se spiegata, può essere... se non propriamente compresa del tutto, almeno ci possiamo avvicinare alla conoscenza. Quindi credo che sia già un notevole passo avanti. Entrare in questo ambito semplicemente con la parola della curiositas, come si diceva un tempo, per decifrare almeno un pochino questa realtà visibile, ma soprattutto quella invisibile. Lei ha il compito di farci vedere con parole sue, come si diceva una volta a scuola, proprio quelle cose che sono invisibili. Qual è il rapporto tra il visibile e l'invisibile? Giuseppe Bruzzaniti. Forse vale la pena che le dica da dove è venuta l'ispirazione in questo titolo. È venuta da un grande matematico, una delle grandi speranze della matematica italiana, che si chiama Ennio De Giorgi. Ennio De Giorgi era addirittura un lit per la medaglia FIED, cioè la matematica non ha un premio Nobel, ma un'equivalenza del premio Nobel, che si chiama appunto Medaglia FIED. Ed erano in discussione tra lui, l'attribuzione era in discussione tra lui e John Nash, John Nash è quello che poi ha preso il premio Nobel per l'economia, tra l'altro, su cui è stato fatto anche un film, Beautiful Mind. Ennio De Giorgi, che è scomparso qualche mese, forse un anno prima della sua scomparsa, anni 90 del 2000, rilasciò un intervista a Michele Emmer, un altro matematico, e parlando della matematica, Ennio De Giorgi, che era tra l'altro un cristiano, una persona di fede anche tra l'altro, insegnava nello scuolo normale di Piva, e disse, parlando della matematica, che forse la matematica è l'unica scienza che ci permette di pensare dall'osservazione delle cose vivibili all'immaginazione delle cose individibili. E questo per me è sempre stato, quando io ho avuto questa intervista, è stato fonte di ispirazione, perché se pensiamo ad esempio alle prime ipotesi sulla struttura della materia, l'esistenza dell'atomo, siamo nell'Ottocento, l'atomo nell'Ottocento è un piccolo corpo, qual è la differenza tra un atomo e una pietra? Sostanzialmente le dimensioni, perché l'atomo conserva nella sua infinita piccolezza quelle che sono le proprietà che caratterizzano i corpi solidi, le pietre, tanto per intenderci. Stiamo parlando di oggetti che sono molto legati ancora al mondo della nostra percezione. Così come noi percepiamo una pietra, possiamo avere sensibilità di questo, la stessa cosa potremmo avere per l'atomo se avessimo le capacità di osservare e di percepire cose quelle piccole. Però nella sua essenza l'atomo è ancora una cosa visibile, perché le sue proprietà sono esattamente quelle che caratterizzano i corpi macroscopici. E anche andando avanti, quando immaginiamo, quando pensiamo all'atomo come a un nucleo circondato di elettroni, anche lì leghiamo questo oggetto nuovo a ciò che già conosciamo. Siamo ancora nel mondo del vivibile, cioè l'atomo è un piccolo sistema solare. Ma se andiamo avanti nella scienza, ci accorgiamo che dobbiamo sganciarci da questo, perché a metà del Novecento, alla fine degli anni Venti e del Novecento, ecco che le cose cominciano a cambiare, perché gli elettroni non sono più piccole particelle che ruotano, ma diventano qualcosa che hanno sia proprietà ondulatorie, cioè come le onde del mare, sostanzialmente, sia proprietà corpuscolare. Quindi che cos'è un elettrone? Si comincia a definire un'ambiguità che prende anche un nome, duodismo ondulatorio corpuscolare, che non permette più di agganciare questi oggetti al mondo della nostra esperienza, della nostra percezione. E più si va avanti, ed è così, se guardiamo adesso quelli che sono i costituenti della materia, cioè quark, gruoni, boroni, leptoni, nessuno di questi oggetti ha la possibilità di essere ancorato al mondo della nostra esperienza sensibile. Sono diventate, diciamo, entità teoriche, cioè qualcosa che si sgancia completamente dal mondo del visibile e appartiene a un mondo dell'invisibile, ma non perché noi non siamo in grado di vederlo, ma proprio perché la loro natura è quella di oggetti invisibili, e paradossalmente noi riusciamo a capire, a comprendere ciò che ci circonda attraverso cose che invece non riusciamo per principio a percepire, a vedere. Abbiamo bisogno sostanzialmente di altri occhi. Attraverso cose che non riusciamo a percepire, a vedere, quindi entriamo, Giuseppe Bruzzaliti, nel campo dell'invisibile e qui il campo dell'invisibile tocca sicuramente il tema della scienza, che è un tema fondamentale, e scoprire il campo dell'invisibile ha sicuramente un significato molto particolare. Già il verbo scoprire per la scienza ha un significato, lei lo racconta molto bene, infinitamente importante, però il campo dell'invisibile tocca necessariamente la fisica, ma tocca anche il tema della filosofia, perché qui non è che le scienze ragionano a compartimenti stagni e quindi è importante anche toccare questo elemento. Che cosa ne pensa Giuseppe Bruzzaliti? Certo, certamente, e vi dicevo, riusciamo a entrare nel mondo dell'invisibile attraverso strumenti e occhi particolari che sono quelli della matematica, secondo me, ma non solo secondo me ovviamente. Cioè la matematica ci permette, e qui ritorniamo alla citazione iniziale di Giorgi, di immaginare ciò che non ci è permesso di percepire, di vedere, costruire modelli, modelli sempre più raffinati che ci permettono di capire le cose che ci circondano. Uno si potrebbe chiedere ma allora qual è la differenza tra chi sostiene ad esempio che lo spirito è tutto, chi sostiene che ci sono delle forze invisibili che dai pianeti condizionano le vicende umane come fanno gli astrologi e la scienza, anche la scienza allora, siamo tutti sullo stesso piano? No, non siamo sullo stesso piano perché la scienza è vero, utilizza oggetti invisibili. però ha sempre il controllo sperimentale, cioè gli oggetti invisibili che noi introduciamo ci conducono poi a delle previsioni che possiamo controllare sul piano empirico. Questa è la profonda differenza che c'è tra il mondo dell'astrologia ad esempio dove possiamo spiegare qualunque cosa attraverso qualche strada congiunzione a strada che sicuramente troveremo e il mondo invece della scienza in cui le cose che spieghiamo sono spiegate attraverso l'introduzione degli oggetti invisibili però hanno sempre la possibilità di fare previsioni di essere controllate attraverso l'esperienza attraverso il controllo sperimentale attraverso l'esperienza il controllo sperimentale la stabilità se ricordo bene a un certo punto del suo esagio citando Freeman Dyson che diceva la nostra stabilità anzi le parole di Robert Bridges esattamente quando parlava della stabilità che è il solo equilibrio e la sapienza e tutto questo sta nel controllo magistrale dell'imprevisto ora se nella vita cosiddetta quotidiana noi dobbiamo sempre andare incontro al controllo dell'imprevisto a maggior ragione in un campo scientifico dove veramente si ragiona e si percorre una ricerca sulla lama di un coltello o forse ancora più fine perché l'imprevisto quanto conta in questa ricerca Giuseppe Bruzzaniti guardi l'imprevisto nella scienza è diciamo è la magia di Enrico Fermi diceva c'è un'espressione molto bella di Enrico Fermi che diceva se stai facendo un esperimento e i tuoi dati confermano la tua teoria allora stai facendo una misura ma se i tuoi dati contraddicono la teoria cioè siamo nell'imprevisto allora stai facendo una scoperta questa cioè questa è la magia dell'imprevisto della scienza cioè l'imprevisto della scienza l'anomalia quella che a volte diciamo pensiamo nel senso comune essere qualcosa di negativo in realtà è proprio il motore della ricerca scientifica la ricerca scientifica non andrebbe avanti senza l'anomalia senza l'imprevisto se noi guardiamo al nostro passato vediamo un cimitero di teorie vediamo le teorie che sono state falsificate che sono state cambiate mutate è tutto dovuto a che cosa è dovuto all'irruzione improvvisa dell'imprevisto che ci riporta diciamo che è il risultato di quella che è l'obiettività della natura il fatto che esistono le leggi scientifiche che esistono la natura che noi la possiamo scoprire e molte volte la scopriamo grazie proprio all'imprevisto c'è qualcosa che è pensi un po' ad esempio alla scoperta dei raggi uranici o dei raggi X quando scopri i raggi X stava facendo esperienze sui raggi tattolici insomma su un certo tipo di radiazione e aveva delle lastre di solfuro di 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 sostanze che sono impressionate dalla luce coperte da cartone a un certo punto si occupò queste lastre e si accorse che perché fossero coperte dal cartone e rivelavano le tracce cioè di nuovo di eruzione dell'imprevisto c'erano scoperti una raggiazione penetrante che attraversava i cartoni e poi fece l'esperienza attraversava i corpi opachi e la luce ordinaria e impressionava le lastre fotografiche vedete quindi di nuovo l'anomalia l'imprevisto è il intorno della scoperta scientifica lei ad apertura di ogni capitolo Giuseppe Bruzzani ti fa delle citazioni è una delle citazioni che mi ha colpito parecchio ma proprio perché mi ha riportato dentro quel libro straordinario che è il libro di sabbia di Jorge Luis Borges rileggendo queste parole mi sono reso conto che sono entrato in questo problema da un'altra porta quella della letteratura della narrazione la scienza d'altra parte è anche narrazione ed è anche letteratura però Borges ci dà veramente ci fa toccare con mano quella apparente inutilità ma quella necessità di andare a trovare l'inizio ma di andare a trovare la fine e non c'è mai fine a questa ricerca esatto sì sì è stupendo io lo amo tantissimo come commonsore e il pezzo delle città anche questo forse è un po' il risultato anche un po' della mia formazione di quel progetto iniziale di cui le parlavo che non c'è un unico sapere infatti le citazioni sono tutte citazioni letterarie quelle che ho messo all'inizio di ogni capitolo e questo proprio per come dire testimoniare in qualche maniera il fatto che per me ecco e per molti altri non esiste un sapere scientifico un sapere letterario ma il sapere nasce proprio dalla compenetrazione dell'intreccio di questi due di questi due mondi e le citazioni quindi hanno sostanzialmente quella tensione in particolare quella di Bohr che mi ha lasciato sempre molto mi ha sempre colpito tantissimo perché in effetti è proprio quello che succede nella scienza la scienza noi pensiamo che il compito fondamentale della scienza sia quello di risolvere i problemi ma non è questo cioè il compito della scienza non è tanto quello di dare risposte ma quello di fare domande infatti se guardiamo all'evoluzione al pensiero scientifico ci accorgiamo che ogni volta che la scienza ha pensato di aver trovato una risposta a qualcosa quella risposta apre nuovi mondi proprio come le pagine del libro di Bohr del libro di sabbia pensiamo soltanto quando alla fine dell'Ottocento si rispose alla domanda che cos'è la luce la luce è un'onda elettromagnetica sembrava di aver risolto un problema millenario però questo problema aveva in sé una grande contraddizione da cui nasce poi la teoria della relatività di Einstein e così via potremmo citare ogni volta che c'è una grande scoperta questa grande scoperta produce un'infinità di domande ancora più profonde proprio veramente un libro di sabbia per chiudere questa conversazione Giuseppe Bruzzanetti io vorrei andare su un'immagine un'immagine che ogni volta che la guardo io trovo sempre un percorso cerco di pensare a un percorso artistico che forse c'è ma invece è un percorso scientifico straordinario e non possiamo non innamorarci di quella pagina anche se non capiamo nulla mi riferisco all'ultima immagine che lei mette nel suo libro ovvero la lagrangiana del modello standard ora io non le chiedo di spiegarci nel dettaglio questa pagina ma ce la faccia vedere con parole sue e beh questo è quello in mezzo proprio sono molto felice di questa domanda perché lo scopo era proprio questo cioè quello di fuscitare la curiosità e perché durante come dicevo prima noi non percepiamo le cose invisibili che poniamo alla base della spiegazione scientifica della materia sono oggetti invisibili che noi però possiamo rappresentare attraverso la matematica e io ho sempre parlato durante il libro di matematica di cui ho sempre dato un pochino qualche dettaglio insomma qualche ho fatto intravedere qualche scorcio però alla fine ho voluto dire beh guardate tutto quello che oggi sappiamo sulla materia la possiamo trovare qui in questa equazione mostruosa che è apparentemente mostruosa ma che ci dice sostanzialmente tutto cioè ci dice qual è la vera natura degli oggetti che noi andiamo a utilizzare per piegare la materia certo è difficile dire che cosa è perché bisogna avere strumenti matematici e conoscenze matematiche molto profonde però l'ho voluta riportare così come si riporta come dire la pagina della nona sinfonia di Beethoven probabilmente se andassimo a prendere la partitura della nona di Beethoven troveremo delle pagine che sono accettanti incomprensibili quanto lo è questa equazione però come diceva lei prima uno rimane affascinato sapendo che dietro quella pagina dietro quella partitura c'è la nona sinfonia e così noi possiamo rimanere affascinati di questa equazione perché sappiamo che dietro questa equazione c'è il mondo che ci circonda cioè la Lagrangiana che cos'è la Lagrangiana è una funzione matematica che ci permette di descrivere in ogni dettaglio un sistema fisico e quella Lagrangiana lì ciascun pezzo di quella Lagrangiana descrive ciascun pezzo del modello standard cioè cosa sono i quark cosa sono i botoni cosa sono i leptoni eccetera 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 cioè queste particelle trovano la loro descrizione la descrizione del loro significato in quell'espressione lì Giuseppe Brozzaniti autore del saggio di cose visibili e invisibili il saggio pubblicato dalle edizioni codice ma prima di salutarci qual è qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni guardi proprio in questi giorni sto rileggendo diciamo forse per problemi anche di lavoro perché ho delle altre idee un libro stupendo che è quello di Cassidy una scrive una solitudine che è La vita e l'opera di Berner Heisenberg che è un libro molto diciamo molto speso molto molto importante molto dettagliato un bellissimo libro e e quindi niente questo è il libro che mi fa compagnia in questi giorni e il libro su Werner Heisenberg stava dicendo Giuseppe Brozzaniti e ho colto in Werner Heisenberg anche una cosa una banalità che io faccio quando leggo i libri mi permette Giuseppe Brozzaniti se scendiamo in questa in questa banalità vado a sempre a curiosare quando c'è l'indice dei nomi quali sono i più citati e se non sbaglio il più citato è per l'appunto Werner Heisenberg è stato un grande è stato il protagonista dei più grossi punti di svolta della fisica del novecento 1927 con la meccanica quantistica poi con la teoria dei campi e poi soprattutto a me quello che affascina di questo autore è diciamo la sua attenzione verso la riflessione filosofica della fisica che lui costruisce lui è stato anche protagonista di dispute e di polemiche di discussioni pesantissime con altri scienziati la sua disputa con Schrodinger sulla natura della meccanica quantistica è stata diciamo ha fatto storia però erano dispute non centrate sulla fisica ma centrate proprio sulla filosofia cioè gli oggetti di cui parliamo sono oggetti veri oppure sono soltanto immagini di cui possiamo fare a meno e forse dobbiamo centrare soltanto su quei dati effettivamente misurabili questo era uno dei tanti interrogativi che Heidenberg si poneva cioè il mondo esiste anche se non lo misuriamo oppure no soltanto per delle altre e quindi un autore che mi ha sempre affascinato e credo continuerà ad affascinare grazie davvero Giuseppe Bruzzaniti per il tempo che ci ha dedicato buon lavoro grazie a lei grazie 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 a lei grazie a lei